Il Comune di Manopello ha deciso, avanti con il ricorso al Tar del Lazio, contro il parere positivo dato dalla direzione via Valutazione di Impatto Ambientale del Ministero dell'Ambiente al progetto RFI per il raddoppio ferroviario Pescara-Roma. Un sì, arrivato il 5 aprile scorso sui lotti 1 e 2, cioè per la tratta Interporto-Manopello e Manopello-Scafa. Il sindaco Giorgio De Luca ha conferito mandato all'avvocato pescarese Vincenzo Di Baldassare che sta preparando due diverse ricorsi, uno per ciascun lotto, sulla base di alcuni punti salienti indicati in delibera che secondo il Comune rendono illegittima la decisione della direzione via. È oltre un anno che diciamo che questo progetto, così come è stato fatto, non ci sta bene. Praticamente RFI si era impegnata che entro giugno dell'anno scorso avrebbe dato via a questi lavori, è passato quasi un anno e ci troviamo ancora al momento del via del Ministero dell'Ambiente. hanno avuto il parere diciamo favorevole sull'otto 1 e 2, a questo punto noi dobbiamo per forza di cose fare ricorso al Tar Lazio. E cosa accadrà? Facendo questo ricorso sicuramente perderemo ancora più tempo, perdere tempo non va bene proprio a nessuno, perché noi si proponeva il progetto invariante, un progetto fatto già da RFI nel 2007, che se ci avessero ascoltato il progetto già sarebbe partito, perché era in aperta campagna, quindi facilmente realizzabile. Voi non siete contro il progetto in sé, ma volete delle modifiche? Noi non siamo stati mai contro il progetto sulla velocizzazione Roma-Pescara, però purtroppo questo è un progetto limitato a Chieti-Scafa, l'otto 1 e l'otto 2. Poi il dopo non si sa ancora, perché questo progetto oggi costa 720 milioni, il progetto di velocizzazione complessiva dovrebbe costare circa 7 miliardi, ma purtroppo questi fondi non ci sono. Quindi rischiamo che Manopello avrà il suo danno e poi il progetto rimarrà un'incombiuta. Secondo il Sindaco ci sono dei punti ben precisi, quale anche quello ambientale da analizzare. Fare un progetto preliminare di massima da Pescara Roma, valutare i costi, prendere il via su tutta la tratta, esempio, quando andiamo al popolo e traforiamo la montagna, cosa accadrà? Saremo tutti contrari, gli ambientalisti saranno contrari, metteremo a rischio tutta l'acqua di 64 comuni, ma questo va valutato prima di partire, penso. Continueremo la nostra battaglia, conclude il Sindaco di ragionevolezza, anche nel nome di Antonio Bianchi, presidente del Comitato Confer, venuto a mancare improvvisamente. Grazie.